Quest'anno forse è stato l'anno più difficile ma che ci ha dato più soddisfazioni. Saremmo felicissimi di arrivare a un traguardo importante, però la cosa più importante è continuare a fare dei campionati importanti, a far divertire le persone, essere corretti, mantenere sempre l'educazione giusta dovunque andiamo. E quello è il messaggio che Pineto Calcio dà ogni anno. E' chiaro che l'obiettivo che abbiamo raggiunto è un obiettivo per me incredibile perché vista la situazione, vista come si erano poste le nostre problematiche all'inizio dell'anno con i 46 giorni di Covid, il fatto che molti non credevano che il Pineto potesse raggiungere certi obiettivi, quella forse ci ha dato quella forza in più per arrivare e per fare quel miracolo che abbiamo fatto. Quest'anno abbiamo cercato di rimettere, di mantenere, ci è dispiaciuto togliere qualcuno ma era impossibile mantenere tutta la rosa, anzi vi posso assicurare che è stato molto doloroso dire a qualcuno guarda quest'anno non fai parte di questo gruppo perché erano stati tutti talmente bravi che ci si è ristretto il cuore. Però dovevamo fare delle scelte, abbiamo fatto delle scelte, speriamo di aver fatto delle scelte importanti, giuste, abbiamo cercato di rinforzare la squadra, abbiamo un mix tra giovani e vecchi che credo sia il campo chiaramente darà la sua risposta. La mia speranza è che il girone F torni ad essere quel girone sulla fascia triatica e con qualcosa di umbro o di lasiale. È chiaro che le trasferte al sud, le trasferte nel basso lasio sono un po' più particolari per noi perché distano oltre tre ore, tre ore e mezza di macchina quindi noi chiaramente pensiamo sempre a qualcosa di più comodo. Ho sempre detto al Presidente che noi siamo una società e questa è la categoria che più secondo me si addice al Pineto e alla città di Pineto. È chiaro che non ci tireremo indietro se dovesse succedere qualcosa oltre. È chiaro che si aspetta la riforma per poter posizionare una squadra di queste dimensioni in quel campionato di Elite che il nostro Presidente vorrebbe tanto partecipare a questa categoria.